Mentre il calcio mercato continua come se nulla fosse, quello giocato resta fermo in attesa che chi di dovere decida se riprendere nel mese di maggio o congelare la classifica senza assegnare scudetto e decretare retrocessioni. Tra i rinnovi di Zielischi e quello di Milik, su cui sembra essersi fiondato il Milan, il Napoli rientra nel gruppo di società favorevoli a far ripartire il campionato nell'ultima settimana di maggio. Dopo l'accelerata della UEFA intenzionata a far giocare in estate Champions ed Europa League, nel pomeriggio si riunirà in videoconferenza la Lega Calcio per definire o no il programma di partenza. L'ipotesi di ripresa più plausibile fissa lo start del campionato a fine maggio, tre le date, 20, 24 o 31, le più realistiche. A inizio giugno l'altra ipotesi, il 6 o il 7. In ogni caso il limite temporale del 30 giugno verrà sforato in maniera più o meno netta ed è su questo fronte che i pareri si dividono. Rimettere in moto il movimento riporterebbe nelle casse dei club i soldi degli sponsor e di sicuro delle televisioni, non quelli del botteghino, visto che le porte degli stadi rimarranno chiuse probabilmente fino a fine stagione.